Come era facilmente ed ampiamente prevedibile non ho saputo resistere neanche 48 ore dall'acquisto del DVD per poter guardare e recuperare il film di cui voglio parlare oggi tra l'altro è uno dei DVD che vi ho mostrato nel mio recente video dedicato appunto agli acquisti in un video quindi eventualmente recuperatelo ed è davvero un gran bel film, meno male che l'ho recuperato adesso dopo mesi e mesi dalla sua uscita adesso sigla e poi ve ne parlo ed allora bentrovati in questa nuova video recensione prima di iniziare come sempre vi ricordo le due cose alle quali tengo particolarmente la prima iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto ed attivate la campanella così da rimanere aggiornati su tutti i prossimi video quindi cliccate sul tasto iscriviti e poi cliccate sulla campanella ed inoltre se mi volete ulteriormente supportare a costo zero semplicemente con i vostri acquisti su Amazon io vi invito a farli utilizzando e partendo dal link che trovate qui sotto in descrizione perché? perché a voi non cambia nulla non spenderete un centesimo in più qualunque siano i vostri acquisti anche non necessariamente a tema cinema ma una piccola parte della vostra spesa sarà automaticamente girata da Amazon al sottoscritto quindi qualunque acquisto dovrete fare su Amazon fatelo a partire dal link che trovate in descrizione ma passiamo a parlare davvero a quello che è il film che voglio recensirvi oggi tra l'altro c'è un piccolo aneddoto che mi lega a questa pellicola prima ancora di guardarla perché? perché in teoria questo film doveva essere il film in grado di sancire il mio ritorno nelle sale l'anno scorso quando le sale hanno riaperto dopo i tanti mesi di chiusura per la situazione che chiaramente stiamo vivendo quindi doveva essere il mio primo film al cinema il ritorno al cinema doveva essere segnato da questo film tanto che infatti acquistammo i biglietti, entrammo in sala il film partì effettivamente ma era senza sonoro non si sentiva nulla tanto che infatti andammo dai gestori della sala provarono in qualche modo a farlo ripartire provarono credo a metterci mano ma non riuscirono a fare nulla tanto che infatti ci proposero di avere o dei coupon per poter ritornare un altro giorno oppure ci proposero di entrare eventualmente ad un altro spettacolo che sarebbe iniziato di lì a poco ed infatti io sono andato a vedere un altro film quindi il mio ritorno al cinema è stato sancito da un altro giro di Thomas Wittenberg, ricordiamolo, con Mads Mikkelsen grandissimo film quindi per fortuna ho visto comunque qualcosa di meraviglioso però ecco, questo film poi non ho avuto più la possibilità il tempo di andarlo a recuperare in sala anche perché poi fu tolto dalla programmazione dei cinema e quindi dovetti aspettare ho dovuto aspettare l'uscita in un video ma in realtà il film è già arrivato in un video da diverso tempo, da diversi mesi quindi me la sono presa davvero comoda nell'acquistarlo ma una volta che è arrivato a casa mia l'ho visto davvero subito sto parlando chiaramente ed è il cattivo poeta di Gianluca Iodice con la presenza chiaramente di Sergio Castellitto protagonista principale ora io chiaramente non farò nessun tipo di spoiler tra virgolette perché perché è ovvio che questo film racconta una storia realmente accaduta racconta, lo vedremo una parte di quella che è la vita di Gabriele D'Annunzio un poeta chiaramente italiano un grande letterato italiano che ha vissuto nel secolo del novecento però ecco non voglio comunque fare spoiler nel senso che non andrò ad approfondire la trama non vi andrò ad elencare determinati momenti del film perché? Perché innanzitutto non voglio dare per scontato che tutti si conosca la storia di D'Annunzio a Mena dito io stesso non è che conosco la storia di D'Annunzio la vita di D'Annunzio dall'inizio alla fine quindi non voglio dare per scontato questo e poi ci sono degli elementi di questa storia che secondo me risultano essere interessanti anche perché sono poco conosciuti davvero perché adesso ve lo spiegherò perché in realtà il protagonista di questo film sì è D'Annunzio ma in realtà ci sono altri personaggi importanti soprattutto uno che io non conoscevo assolutamente quindi per questo motivo non voglio addentrarmi più di tanto nella trama e ve lo dico anche fin da subito io non so quanto questo film risulti essere aderente alla realtà quindi non so quanto sia stato romanzato meno non lo so, non ve lo so dire quindi se voi eventualmente doveste aver visto il film e se conoscete approfonditamente la vita di D'Annunzio eventualmente fatemi sapere qui sotto tra i commenti queste caratteristiche quindi fatemi sapere se il film risulta essere romanzato oppure se risulta essere davvero fedele alla realtà dei fatti però ecco non voglio approfondire più di tanto vi do davvero un cenno di trama il film infatti racconta la storia iniziale di un giovane federale fascista in Caumini che viene inviato chiaramente dalle istituzioni fasciste al vittoriale di D'Annunzio la dimora storica di D'Annunzio per poterlo spiare per poterlo tenere d'occhio perché D'Annunzio che ci viene mostrato in quella che è la fase finale della sua vita è un D'Annunzio settantenne e ci ritorniamo fra poco su questo elemento perché ci tornerà utile quindi questo giovane federale deve spiarlo deve tenerlo d'occhio deve capire quali sono le sue intenzioni perché? perché comunque D'Annunzio in quel periodo era fortemente critico nei confronti del regime fascista nonostante lui fosse comunque un uomo di destra fosse stato un uomo di destra da tutta la vita in realtà lui era critico nei confronti di Mussolini nei confronti del regime fascista soprattutto perché era critico per quello che era stato era stato l'avvicinamento ritenuto eccessivo da D'Annunzio chiaramente da tutti spero nei confronti di quello che è il regime nazista di Hitler quindi lui era fortemente critico verso il regime e quindi il regime voleva controllarlo e per controllarlo inviò al vittoriale questo giovane federale Comini il quale infatti instaura con D'Annunzio una sorta di amicizia tra virgolette un'amicizia sui generis che permetterà a Comini di capire con chi ha a che fare in realtà poi cambiando in parte anche quello che era stato il suo modo di approcciarsi a D'Annunzio anche perché poi si svelano alcune cose che non vi voglio rivelare relative soprattutto appunto alla vita di D'Annunzio e relative anche in realtà al personaggio di Comini quindi questo diciamo che è il quadro generale del film il quadro generale della pellicola per quanto riguarda la trama non voglio approfondire più di tanto allora ve lo devo dire fin da subito il film è un gran bel film ma me lo aspettavo diciamo perché da quelle che erano state le recensioni che avevo visto avevo letto da come è stato accolto anche al cinema nonostante non abbia avuto una vita lunghissima in sala però mi aspettavo di trovarmi un gran bel film di fronte in realtà è un film che mi ha anche sorpreso e qui ritorniamo a bomba su quello che stavo dicendo poc'anzi riguardante D'Annunzio perché? perché se si va a vedere il trailer cosa che ho fatto chiaramente all'epoca ma se si vanno anche a vedere le immagini promozionali quello che si nota è che tutto quello che viene mostrato D'Annunzio risulta essere centrale anche perché fondamentalmente abbiamo un grandissimo attore che lo va ad interpretare e cioè Sergio Castellitto quindi sembra quasi che il personaggio di D'Annunzio sia presente per tutta la durata della pellicola e sia davvero centrale in quello che è il nucleo della storia ora questo è in parte vero nel senso che è chiaro parliamo di un film che si chiama Il Cattivo Poeta tra l'altro è una definizione che a quanto pare lo stesso D'Annunzio dava di se stesso il personaggio di D'Annunzio è comunque sempre presente ma non necessariamente fisicamente cioè non è una come dire un'entità presente sulla scena sempre soprattutto per la prima metà i primi due terzi del film compare perché chiaramente è presente perché il giovane federale va al vittoriale per poterlo spiare ma in realtà è molto meno presente di quanto mi aspettassi ed infatti quello che ho notato guardando questo film è che in realtà quello che ci vuole mostrare il regista Gianluca Iodice ma anche da un punto di vista della sceneggiatura della messa in scena in realtà non è tanto D'Annunzio e soprattutto non è tanto D'Annunzio come personaggio che probabilmente è quello che conosciamo tutti quello che si studia quello che è passato alla storia è un D'Annunzio persona quindi si è voluto dare un taglio molto più realistico per meglio dire a quella che è la figura di D'Annunzio anche perché tra l'altro è un D'Annunzio anziano stiamo parlando di quella che è la fase finale della vita di Gabriele D'Annunzio siamo alla fine degli anni 30 nella seconda metà degli anni 30 quindi un D'Annunzio 70enne più di 70 anni tanto che infatti appunto è un D'Annunzio che ci viene mostrato soprattutto nella fase iniziale del film sì ancora con alcune caratteristiche che fondamentalmente sono quelle che vengono spesso ricordate quindi un amante un grande amante una team lover un uomo che comunque amava la propria vita anche il modo di condurre la propria vita però in realtà poi quello che vediamo è un D'Annunzio anziano è un D'Annunzio che vive ormai di quelli che sono i suoi ricordi i suoi rimpianti è un uomo che sì dà ancora sfoggio di grande genialità anche da un punto di vista artistico per quelle che sono i suoi pensieri le sue opinioni poi chiaramente si può essere d'accordo o meno però in realtà appunto abbiamo di fronte una persona anziana una persona consapevole anche che la sua vita sta finendo è nella fase finale di una vita che comunque lo ha soddisfatto è una vita che lo porterà ad avere appunto come detto dei ricordi gloriosi ma anche dei ricordi tristi e per una persona anziana noi vediamo abbiamo di fronte a noi il D'Annunzio persona non il D'Annunzio personaggio tanto che infatti tanto che infatti guardando e avendo l'idea sbagliata appunto di trovarmi di fronte un film incentrato tutto su D'Annunzio io mi sarei aspettato anche mi aspettavo una prova attoriale di Sergio Castellitto diversa da quella che invece abbiamo perché perché aspettandomi la presenza di un D'Annunzio sopra le righe mi sarei aspettato chiaramente anche un Sergio Castellitto sopra le righe da un punto di vista recitativo e questo non è questo non è perché appunto essendo il film come dire in grado di focalizzare l'attenzione su quella che è la persona D'Annunzio anche Sergio Castellitto ovviamente ha portato avanti una prova recitativa una prova attoriale ben precisa una prova attoriale focalizzata su quella che era la persona di D'Annunzio bravissimo Sergio Castellitto ma vabbè stiamo parlando dell'ovvio perché credo che Sergio Castellitto sia da considerare uno dei migliori attori italiani in circolazione da ormai tanto tempo ed è stato davvero bravissimo nell'andare a disegnare un uomo un uomo anziano ormai appunto nella fase finale di una vita che lo ha comunque chiaramente portato alla gloria per molti aspetti gli ha reso comunque anche problematiche alcune situazioni ma lui ha focalizzato secondo me quello che era l'aspetto umano di Gabriele D'Annunzio è un uomo che tende appunto ancora a cercare di in qualche modo dare gli ultimi gli ultimi bagliori sia da un punto di vista personale sia da un punto di vista anche politico da un punto di vista di quelle che sono le sue opinioni filosofiche politiche appunto letterarie però fondamentalmente è un uomo anziano ormai alle prese con anche lo spettro della morte e da questo punto di vista Sergio Castellitto è stato davvero davvero bravissimo anche proprio per la messa in scena come il modo di stare in scena tanto che infatti nella parte iniziale del film D'Annunzio è ancora abbastanza pimpante mettiamola così ma man mano che passano anche i mesi e gli anni perché se non ricordo male il film si articola almeno in un anno di vita di D'Annunzio anche la stessa qualità di vita di D'Annunzio comincia a decadere le condizioni di salute di D'Annunzio cominciano a decadere tanto che infatti poi c'è una conclusione ben precisa della vita di D'Annunzio che non voglio spoilerarvi ma magari lo sapete e questo è stato reso benissimo da Sergio Castellitto quindi Sergio Castellitto e il personaggio di D'Annunzio si sono fusi insieme ma questo era prevedibile uno degli aspetti maggiormente positivi della pellicola è proprio la prova di Sergio Castellitto fermo restando quello che ho detto poc'anzi cioè il personaggio o meglio la persona di D'Annunzio non è il centro il fulcro dell'intera pellicola diventa maggiormente preponderante soprattutto nella fase finale o comunque nell'ultimo terzo di film perché? perché i primi due terzi vedono come grande protagonista proprio questo giovane federale vedono protagonisti co-protagonisti anche tutti quelli che sono i personaggi che orbitano attorno a lui credo tutti i personaggi realmente esistiti anche se non voglio dare per scontato niente però alcune figure sono realmente esistite perché le ricordavo dopodiché le due componenti si fondono perché poi il giovane federale e appunto il Vate cominciano ad interagire in maniera sempre più frequente fino alla fine il film funziona poi anche proprio per la messa in scena come detto per l'impostazione registica di Gianluca Iodice una messa in scena che va ad esaltare per esempio anche quella che è la maestosità proprio dei palazzi delle stanze che erano state costruite dal regime fascista proprio per dare questo senso di timore a chi si approcciava a chi si avvicinava anche a queste strutture quindi viene resa bene l'idea di quel periodo ma in realtà mi è piaciuta anche la messa in scena in quelle che sono le scene le sequenze nel vittoriale gli interni anche sono stati curati in maniera splendida quindi da questo punto di vista è ovvio anche la scenografia fa il suo sporco lavoro in maniera più che dignitosa mi è piaciuta tantissimo la fotografia di Daniele Cipri ma anche qui non mi sorprendo perché Daniele Cipri è un grande maestro della fotografia un grande direttore della fotografia perché? perché la fotografia quindi anche l'impostazione visiva estetica di questo film è in qualche modo mi viene da dire desaturata cioè se voi guardate questo film vi rendete conto come per la sta grande quota parte di quelle che sono le sue scene abbiamo dei colori spenti dei colori che tendono appunto alla desaturazione al grigio quasi mi verrebbe da dire proprio per dare una sorta di atmosfera glaciale un'atmosfera fredda proprio per quello che era probabilmente l'atmosfera che si viveva in quel periodo le uniche parti le uniche sequenze che tendono in qualche modo ad accendersi proprio per quanto riguarda i colori per quanto riguarda anche la luminosità sono le scene che sono ambientate soprattutto all'esterno e soprattutto al vittoriale come a voler appunto andare a mettere in contrasto quella che era la vita di Danunzi e soprattutto quella che era la fase più intima della vita di Danunzi con tutto il resto quindi anche e soprattutto con il regime fascista e con tutto quello che aveva a che fare con il regime fascista quindi ottima anche la fotografia di Daniele Cipri ma anche qui io non mi sorprendo affatto perché chi conosce un minimo anche la carriera di Daniele Cipri vabbè non c'è niente di cui sorprendersi e poi il film chiaramente gode anche di ottime prove attoriali abbiamo l'attore che interpreta appunto questo federale Comini che è Francesco Patanese non ricordo male il suo nome bravissimo bravissimo anche perché è probabilmente il personaggio che maggiormente si evolve durante la storia durante il film e si evolve anche in modo tale da condurre lo spettatore a come dire ad elaborare tutta una serie di conclusioni tutta una serie di opinioni tutta una serie di idee che ovviamente il regista da un punto di vista anche della sceneggiatura ci vuole inviare tra l'altro in maniera senza scadere in facili moralismi senza scadere neanche nel disascalico è chiaro che i moralismi in un film del genere è possibile che si possano trovare in realtà in questo film non ce ne sono visto anche il tema sarebbe anche semplice andare proprio alla come dire ad imboccare lo spettatore con delle sequenze con delle scene con dei messaggi facilmente orientati proprio su quel tipo di analisi ma non è un film moralista per quanto chiaramente si parli del fascismo per quanto si parli anche del nazismo però non è un film che vuole imboccare allo spettatore non è un film di da scalico ci sono dei momenti ci sono delle sequenze in cui si capisce fondamentalmente quello che era il regime fascista quelle che erano anche le modalità di indagine le modalità anche di affrontare gli oppositori del regime fascista però non ci viene fatto vedere quasi niente non ci viene davvero imboccato nulla chiaramente si lascia il tutto alla conclusione mentale dello spettatore ed è quello che secondo me deve succedere sempre in un buon film proprio per evitare di scadere nel di da scalico quindi da questo punto di vista il personaggio del federale è importantissimo proprio per quella che è la sua evoluzione dall'inizio fino alla fine per tutto quello che gli succede per tutto quello che vede per tutto quello che sente per tutto quello che come dire gli capita anche a causa soprattutto della vicinanza con D'Annunzio quindi bravissimo lui bravissimo l'abbiamo detto Sergio Castellitto poi c'è anche un cast davvero ricco di coprotagonisti di personaggi più o meno secondari con delle figure che appunto sono realmente esistite per esempio le amanti di Gabriele D'Annunzio fondamentalmente se non ricordo male compare anche Mussolini per qualche minuto ci sono davvero tante personalità che in qualche modo fanno la loro comparsa in scena e la maggior parte di queste lo so per certo sono realmente esistite non so se siano tutte esistite o meno però alcune le conoscevo quindi mi è piaciuto davvero l'inserimento di questi personaggi nel complesso davvero un cast corale un cast che va in qualche modo a completare la bellezza di una pellicola che è stata in grado di soddisfarmi anche proprio da un punto di vista strettamente emotivo ma anche diciamo intellettivo perché è interessante quello che ci viene mostrato ci viene mostrata appunto una faccia della vita di Gabriele D'Annunzio che probabilmente non è quella più conosciuta la fase finale della sua vita e soprattutto come detto poc'anzi ci si concentra più sulla persona D'Annunzio anziché sul personaggio probabilmente sarebbe stato più tra virgolette semplice dedicarsi al personaggio D'Annunzio magari anche affrontando una parte di vita più lunga in realtà con questo film si vuole fare tutt'altro ed io l'ho apprezzato davvero davvero tanto quindi questo era quello che vi volevo dire riguardante il film Il cattivo poeta di Gianluca Iodice davvero con un grandissimo Sergio Castellitto come sempre adesso non rimane che chiedere a voi che cosa ne pensate se lo avete visto fatemi sapere la vostra opinione qui sotto tra i commenti se vi è piaciuto se non vi è piaciuto cosa vi è piaciuto maggiormente che cosa invece avete trovato poco funzionale tutte quelle che sono le vostre opinioni chiaramente le aspetto qui sotto tra i commenti perché come sempre le leggerò con molto molto piacere io vi ringrazio per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ed attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i prossimi contenuti ed inoltre se mi volete ulteriormente supportare a costo zero semplicemente con i vostri acquisti su amazon fateli a partire dal link che trovate qui sotto in descrizione perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà automaticamente girata da amazon al sottoscritto quindi qualunque acquisto fatelo a partire dal link che trovate qui sotto io vi do l'appuntamento ad un prossimo video ad una prossima video recensione oppure anche nella mia pagina facebook doctor cinema alla quale vi consiglio sempre di iscrivervi come sempre vi auguro anche una buona continuazione di giornata e noi ci vediamo presto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti